Salve a tutti e benvenuti sul canale Creare con Sud-Est. In questo video tutorial andremo a realizzare dei pantaloni per i neonati realizzati all'uncinetto. Abbiamo semplicissimo, proprio classicissimo, il punto basso e il risvoltino e la molla in alto sono realizzati con punto alta in costa. All'interno possiamo andare a inserire un elastichino in vita, la classica molla, per tenere i pantaloni più stretti o più larghi che siano più comodi per i vostri bimbi. Qui abbiamo realizzato un'alzatina dietro, vedete il dietro è più alto rispetto al davanti per contenere al meglio il pannolino e quindi rendere il pantalone più anatomico con la struttura proprio del corpo per i nostri bambini. Per realizzare questi pantaloni avremo bisogno di uncinetto, uno del numero 5 e l'uncinetto del numero 4 e mezzo. Abbiamo bisogno del filato, ho utilizzato 4 gomitoli per realizzare questa taglia, qui abbiamo una taglia di 3-6 mesi. Ho utilizzato il filato Super 8 della Mondial, 100% lana vergine merino extra fine. Extra fine è un trattamento al filato che lo rende morbidissimo, delicatissimo, non fa il pelo, non punge, non fa il pallino, quindi ideale per i bambini. Vi ricordo come sempre che il filato lo potete acquistare nella nostra merceria sud-est, giù nell'info box troverete il link della merceria. Inoltre troverete il link diretto al filato per poter acquistarlo online, link del gruppo Facebook Creare con sud-est dove potete condividere tutte le vostre creazioni con noi. Vicino a questi pantaloni ho realizzato anche il cardigan, un giacchino con il cappuccio da abbinare e quindi per rendere tutto un completo. Qui ho utilizzato sempre stesso filato. Per quanto riguarda le altre taglie, prestate attenzione allo schermo che piano piano durante la lavorazione vi andrò a indicare i centimetri o le maglie, quello che bisogna fare per le diverse taglie da 0 fino a 12 mesi. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale, non dimenticate di cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi tutorial in uscita. E adesso passiamo al tutorial. Per realizzare i nostri pantaloni andiamo a prendere il filato. Andiamo a prendere i due numeri dell'uncinetto, quindi l'uncinetto del numero 5 e l'uncinetto del numero 4 e mezzo. Inizialmente vado a prendere l'uncinetto più grande, quindi del numero 5 e vado a avviare le catenelle. Vado a avviare 72 catenelle per la taglia che sto realizzando io. Per le altre taglie prestate attenzione allo schermo che vi metto su scritto quante catenelle bisogna avviare per ciascuna taglia. Cerchiamo inoltre di fare un avvio piuttosto morbido, così quando andremo a realizzare l'elastico e piegarlo, i pantaloni non daranno fastidio ai bimbi. Quindi avviato le 72 catenelle, ora le dobbiamo chiudere in tondo, quindi con molta attenzione controlliamo che la catenella non si rigira su se stessa, troviamo la prima catenella e la andiamo a chiudere in tondo con un semplice punto bassissimo. Fatto ciò, 3 catenelle, 2, 3 per alzarmi, cambiamo anche l'uncinetto e vado a lavorare un punto alto all'interno di ciascuna catenella di base per tutto quanto il giro, quindi un punto alto su ciascun punto di base. Abbiamo proseguito con la lavorazione del punto alto in coste, ho realizzato in tutto 9 giri e ho circa un 10 centimetri, più o meno un 9 centimetri e mezzo di altezza totale. Adesso vado a piegare a metà il mio lavoro, quindi il rovescio contro il rovescio per ottenere il diritto rivolto verso di noi. Vado a cambiare l'uncinetto, prendo l'uncinetto del numero 5 e andiamo a piegare questo lavoro, unire le due parti insieme. Inoltre dovremo andare a eseguire un po' di aumenti per rendere i nostri pantaloni più comodi, più larghi, quindi più indossabili con il pannolino. Piegato il lavoro andiamo a entrare nel prossimo punto, quindi qui al lato opposto, proprio dove abbiamo uncinetto diritto così, vado a prendere il filo e lo unisco con il punto bassissimo, questo per incominciare il nostro lavoro. Nel prossimo punto di base entro con l'uncinetto e anche nel punto di base opposto, quindi dall'altra parte, entro con l'uncinetto, esco e faccio un punto basso. Nel prossimo punto di base, nel punto di base opposto, dal lato opposto e vado a fare il punto basso. Ogni 10 punti bassi andrò a realizzare un aumento, quindi sono 3, 4, 5, 6 e 7. E credo che gli aumenti li farò un po' più spesso, quindi anziché ogni 10 punti farò ogni 7 punti un aumento per rendere ancora un po' più largo il pantaloncino. Quindi i primi 7 punti, nell'ottavo punto vado a realizzare 2 punti bassi, quindi rientro negli stessi punti di base e vado a fare 2 punti bassi. Dopodiché, di nuovo, 7 punti bassi singoli, riprendendo sia un lato che l'altro lato del nostro lavoro, 2, 3. E dopo il 7 punti, nell'ottavo punto di base, vado a realizzare un aumento, facendo così per tutto il giro. E fino a quanto non rimarranno giusto 3, 4 punti prima di terminare il nostro giro. Gordiamoci degli aumenti. Ho lavorato il tutto il giro, qui rimangono giusto 3 punti che non li vado a unire, vado a lavorare soltanto su questi punti. Ci rimarrà questo piccolo foro da poter inserire una classica molla all'interno e se serve cambiarla all'occorrenza. Magari se dobbiamo allargare o restringere di più per indossare al meglio il pantalone al bebè, lo lasciamo questo piccolo buchetto. Quindi vado nel prossimo punto basso di base, soltanto un lato e l'altro rimarrà lì aperto. E poi qui andrò a realizzare un aumento, anche se è il settimo punto, ma andrò a realizzare comunque l'aumento. Chiudo il mio lavoro. L'unione del giro sarà sempre qui, quindi andiamo a piegare dove sta l'unione del giro a metà il lavoro, così. E qui adesso andremo a creare il dislivello tra il dietro e il davanti per dare più spazio al pannolino che andremo poi a indossare. Quindi abbiamo una metà, una metà è del davanti, l'altra metà è del dietro. Quindi in questa metà andremo a posizionare un paio di marca punti. Cerchiamo più o meno il centro del nostro lavoro. Quindi qui abbiamo i lati, un lato e il secondo lato. Il centro sarà più o meno così, non c'è bisogno proprio un centro preciso preciso. Più o meno qui abbiamo il centro, lo possiamo piegare per ritrovarlo. Quindi se io ho il centro qui vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti. Nel settimo punto vado a mettere un segnapunto, così anche dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vado a mettere il marca punto. Vado a lavorare fino a quando non arrivo al marca punto. Sempre con il punto basso. Quindi una catenella per alzarmi e vado a realizzare un punto basso su ciascun punto di base fino a quando non raggiungo il secondo marca punto. Qui ho il primo segnapunto, lo tolgo, lavoro il punto all'interno e metto di nuovo il segnapunto. Proseguo fino al secondo segnapunto. Sempre tutto con il punto basso. Un punto basso su ciascun punto di base. Tanto gli aumenti li abbiamo già realizzati, da adesso in poi gli aumenti non ci sono. Quindi sono tutti punti singoli. Raggiungo il segnapunto. Vado a realizzare un punto basso all'interno di questo segnapunto. Nel prossimo punto di base vado a realizzare un punto bassissimo. Nel punto successivo metto di nuovo il segnapunto. Quindi nel punto successivo di base. Qui abbiamo il punto bassissimo. Giro il lavoro e nel prossimo punto di base vado a realizzare il punto basso. Lavoro tutto a punto basso fino a quanto non raggiungo il segnapunto. Sempre un punto basso su ciascun punto di base. Arriva al segnapunto. Lo vado a togliere. Un punto basso all'interno del punto di base. Nel prossimo punto di base il punto bassissimo. E nel successivo punto di base il segnapunto. Giro il lavoro. Nel prossimo punto di base il punto basso. Quindi un punto basso su ciascun punto di base. Lavoriamo morbidi senza stringere il lavoro. Non deve risultare troppo duro, troppo pesante. Quindi lavoro un punto basso su ciascun punto di base. Qui l'ultimo punto di base. Qui dove abbiamo realizzato il punto bassissimo. Vado a realizzare il punto basso. Nel prossimo punto di nuovo un punto basso. Tolgo il segnapunto. Nel punto dove era il segnapunto sempre un punto basso. Nel punto successivo un punto bassissimo. Nel punto successivo di nuovo il segnapunto. Giro il lavoro. Punto basso nel prossimo punto di base. Quindi proseguo così realizzando in tutto quattro giri. Questo è il terzo. E poi andrò a realizzare il quarto giro. Quindi arrivo al punto basso. Il punto basso qui vado a eliminare. Nello stesso punto un punto basso. Nel prossimo punto di base il punto bassissimo. E nel prossimo punto di base vado a mettere il marca punto. Giro il lavoro. Nel successivo punto. Quindi non qui ma qui nel prossimo punto. Vado a realizzare un punto basso. E un punto basso in ciascun punto di base. Fino a quando non raggiungo il marca punto dal lato opposto. Quindi punto basso su ciascun punto di base. In tutto andremo a realizzare giusto quattro giri per le taglie fino a sei mesi. Invece per le taglie più grandi da nove, dodici mesi. O magari se volete realizzare diciotto mesi. Dovremo realizzare sei giri di questa alzatina che stiamo andando a creare. Per conterire al meglio il pannolino. Vado a eliminare il marca punto. Nel prossimo punto dove era il marca punto andiamo a realizzare punto basso. Nel punto successivo punto basso. E nel terzo punto successivo sempre un punto basso. Quindi abbiamo realizzato tre punti bassi. Compreso al punto dove si trovava il marca punto. Dopodiché un punto bassissimo. Nel punto seguente rimettiamo il marca punto. Giro il lavoro. E vado a realizzare un punto basso su ciascun punto di base. Fino a quando non raggiungo il segnapunto dal lato opposto. Arrivo al lato opposto punto basso. Nel punto dove era eseguito il punto bassissimo vado a realizzare il punto basso. Togliamo il segnapunto quindi uno, due, tre punti bassi nei punti successivi. Nel prossimo punto punto bassissimo e nel punto seguente il marca punto. Giriamo il segnapunto tutto punto basso fino al marca punto. Arrivo al marca punto. Un punto basso sul punto dove era il punto bassissimo. Tolgo il marca punto. Questo marca punto non mi occorre più. Vado a realizzare uno, due, tre punti bassi. Nel prossimo punto punto bassissimo giro il lavoro e quindi lavoro tutto a punto basso fino a raggiungere il prossimo marca punto. Raggiungo il marca punto come sempre. Punto basso. Togliamo il segnapunto. Non ci servirà più. Uno, due, tre punti bassi. Nel prossimo punto punto bassissimo giro il lavoro. Qui ci ricordiamo che c'era l'unione del nostro giro. Quindi l'unione del giro è proprio qui. Volendo potremo andare a mettere il segnapunto per sapere dove comincia, dove termina il giro. Ma adesso andremo a realizzare completamente tutto il giro fino a qui. Quindi lavoro il punto basso. Arrivo al segnapunto. Qui abbiamo l'ultima volta il segnapunto. Però non ritorneremo più indietro. Vado a eliminare questo segnapunto. Da adesso in poi vado a realizzare il lavoro tutto in tondo. Però dovremo andare a trovare inizio giro. Inizio giro vi ricordate che è proprio qui dove abbiamo lasciato il foro di apertura per inserire l'elastico. Quindi qui incomincia il nostro giro. Volendo possiamo mettere un marcapunto proprio qui. In modo da riconoscere inizio e fine giro. Perché poi i giri non saranno realizzati sempre in senso orario. Andremo a realizzare un giro in senso orario. Un giro in senso anti-orario. Per creare il punto leggermente più carino rispetto al classico. Insomma che deve vedersi così. Quindi termino questo giro. Ho eliminato il marcapunto. Da adesso in poi io non tornerò più indietro. Proseguo lavorando tutto a punto basso. Fino a quando non raggiungo il mio marcapunto qui. Che mi va a delimitare inizio e fine giro. Quindi lavoro tutto punto basso fino a qui. Arrivata al marcapunto lo vado a eliminare. E vado a chiudere il giro con il punto bassissimo. Qui un punto sempre un po' più stretto. Perché comunque è una catenella. E quindi si ristringe sempre. Chiuso con punto bassissimo. Vado a realizzare una catenella. Giro il lavoro. E vado a ritornare tutto con il punto basso. Terminato tutto il giro. Chiudo con punto bassissimo. Catenella. Giro il lavoro nel senso orario. E vado quindi a lavorare tutto a punto basso. Lavorando su tutti i punti completamente in tondo. Però ripeto. Un giro in senso orario. Un giro in senso anti-orario. E in tutto dovremo andare a realizzare circa una quindicina di centimetri di altezza sul davanti. Non sul dietro. Il dietro sarà più lungo. Ho lavorato i pantaloni con il punto basso. Per un 12 centimetri. Vedete il dietro. Da dietro è un po' più alto rispetto al davanti. Abbiamo questa differenza. Per avere più spazio per i pannolini. Dunque andiamo a piegare il nostro lavoro. Quindi di sponderlo per bene. Qui il dietro è più alto. Abbiamo, vedete, questa forma che si crea proprio per contenere al meglio il pannolino. E non dar fastidio al bambino. Quindi una volta trovato il centro. Andiamo a piegare il nostro lavoro. E andiamo a trovare i due punti centrali. Sia sul davanti mettiamo i due marca punti. Così anche sul dietro e mettiamo i due marca punti. Vicino a questi marca punti andremo a realizzare qualche aumento. Per creare il cavallo e quindi dare un po' più di spazio, più libertà ai nostri bambini. Soprattutto perché di solito stanno seduti con le gambine un po' aperti. Quindi hanno bisogno di un cavallo più ampio per stare comodi. Quindi vado a continuare la lavorazione fino a quando arrivo ai miei marca punti. Continuando sempre con il punto basso. Tutto un punto su ciascun punto di base con un punto basso. Arrivo al primo marca punto. Lo andiamo a togliere. In questo punto dovremo andare a eseguire un aumento. Per cui lavoriamo due punti bassi all'interno dello stesso punto di base. Vado a realizzare il primo punto basso. E vado a posizionare il marca punto. Vado a realizzare nello stesso punto di base il secondo punto basso. Togliamo il prossimo marca punto. All'interno del prossimo punto basso vado a realizzare un punto basso. Il secondo punto basso nello stesso punto di base. Nel secondo punto basso vado a riposizionare il mio marca punto. Proseguo con il giro fino ai altri due marca punti. E faremo esattamente nella stessa maniera. Terminato il primo giro con gli aumenti. Andiamo a fare il secondo giro. Ovviamente dobbiamo andare a realizzare un giro in senso orario. Un giro in senso anti-orario. Per non perdere il disegno. Quindi arrivo di nuovo ai miei marca punti. Tolgo il marca punto. E nel punto sotto al marca punto vado a realizzare un punto basso. Rimetto il marca punto. E vado a realizzare il secondo punto basso. Nei prossimi due punti di base si lavorano un punto singolo per ciascun punto di base. Arrivo di nuovo dove ho il marca punto. Lo tolgo. Vado a realizzare un punto basso. Secondo punto basso nello stesso punto di base. E rimetto il marca punto. Così faremo anche dall'altro lato. Fatto questo giro faremo ancora un terzo giro. Sempre con i soliti aumenti. Quindi all'interno del punto dove è posizionato il marca punto saranno fatti due punti bassi e due punti bassi. Così tra un segnapunto e l'altro si formerà ancora qualche maglia in più. Abbiamo realizzato gli aumenti. Quindi adesso tra un segnapunto e l'altro ce ne abbiamo sei maglie. Sia da una parte che dall'altra parte. Da adesso in poi andiamo a dividere il nostro lavoro e quindi lavorare le gambine. Saranno lavorati qui. Quindi dal primo segnapunto a questo così. E l'altra gamba qui. Qui invece le maglie saranno in sospeso. Poi le andremo a cucire. Quindi come sempre lavorando tutto a punto basso vado a lavorare il primo giro della prima gambina. Lavoro tutte le maglie fino al primo marca punto. Arrivo al primo marca punto lo vado a eliminare e nello stesso punto vado a fare un punto basso. Dopodiché salto tutte le maglie fino al terzo marca punto che sarebbe questo. Quindi qui non si lavora. Si lavora direttamente da qui in poi. Giro il lavoro per renderlo più comodo vado a eliminare il marca punto e nello stesso punto di base vado a fare il punto basso. Quindi abbiamo chiuso in tondo la gambina. Da adesso in poi andiamo a proseguire la lavorazione soltanto su queste maglie. Un giro in senso orario, un giro in senso anti-orario. Per circa un 15 cm la prima gamba. Dopodiché andremo a riprendere la seconda gambina. Quindi lavoreremo da un marca punto in tondo fino al prossimo marca punto. Chiudiamo in tondo e lavoriamo la seconda gambina esattamente come la prima. Le restanti maglie rimarranno in sospeso. Ho lavorato la gambina dopo la divisione delle gambe per un 11 cm circa. Adesso vado a cambiare l'uncinetto. Quindi prendo l'uncinetto più piccolo e vado a lavorare dal dentro del lavoro. Quindi in modo che quando facciamo il risvolto il diritto sarà sul diritto di lavoro. Vado a lavorare il punto alto in costa. Quindi lavorando un punto alto classico e un punto alto prendendolo in costa. Punto alto classico e punto alto in costa. Esattamente come abbiamo realizzato inizialmente sull'avvio dei nostri pantaloni. per poter inserire elastico. Qui invece vado a realizzare esattamente così con l'uncinetto più piccolino per circa un otto ferri e un otto giri in altezza per poter poi risvoltare e quindi ottenere questo risultato. Una volta terminata anche l'altra gamba dobbiamo andare a nascondere soltanto tutte le codine e chiudere l'apertura qui del cavallo. Per fare ciò vado semplicemente a prendere un ago da lana con stesso filato e vado a eseguire questa piccola cucitura. La farò la cucitura proprio dall'esterno dopodiché nasconderò la codina da dentro. Adesso faccio così semplice semplice prendendo un punto da un lato un punto dall'altro lato fatto per un pochino, per qualche punto vado a stringere tutto, continuo sugli altri punti ecco qui quasi terminato, qui i punti davvero ne sono pochissimi quindi subito si fa tiro il filo ed ecco qui la cucitura eseguita non mi rimane che mettere il filo dall'altra parte del lavoro e quindi nascondere le codine che si sono formati dal dietro. Con questo possiamo dire che i nostri pantaloni si concludono, il tutorial termina qui, volendo possiamo andare a inserire l'elastico dove abbiamo lasciato un po' di apertura qui, un elastico all'interno per mantenere al meglio i pantaloni addosso ai nostri bimbi e quindi abbiamo concluso. Come sempre grazie mille per avermi seguito e ci vediamo nel nostro prossimo tutorial.